Il premio di poesia Poseidonia Pestum taglia il nastro del IV di secolo. Grazie alla tenacia della professoressa Rita Bellelli e del Lions Club Pestum, l'appuntamento atteso da poeti di ogni età e paese si ripresenta anche quest'anno sul palco della Basilica Paleocristiana di Pestum, domani sera, sabato 29 giugno, a partire dalle 20 e 30. Centinaia di poeti, i mesi scorsi, hanno spedito i loro lavori per partecipare alle sezioni di poesia inedita, edita, giovani e vernacolo. Ora tendono di conoscere i risultati della selezione compiuta faticosamente dalla giuria presieduta da Ermanno Corsi, giornalista RAI e composta da Giuseppe Funicelli, medico chirurgo e poeta, presidente del Centro Permanente per la Diffusione della Cultura del Lions Club Pestum, Costabile Cilento, già preside nel licee di Stato, Alberto Granese, ordinario di letteratura italiana dell'Università degli Studi di Salerno, saggista e critico letterario, Pasquale De Cristofaro, regista teatrale, drammaturgo. Già noti i nomi dei due vincitori della poesia straniera e del premio alla carriera, Alisia Maria Kubelska, di origine polacche, autrice tradotta in Belgio, Stati Uniti, Inghilterra, Canada, India, Australia e Italia, Giuseppe Liuccio, già docente e preside nei licei classici, giornalista RAI, poeta e narratore, al quale viene tributato il premio alla carriera per la sua ricchissima produzione letteraria che lo ha reso ambasciatore del Cilento nel mondo. Durante la serata, condotta dalla professoressa Rita Bellelli e con la direzione musicale del maestro Gianfranco Marra, porteranno in loro saluto il neosindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, il presidente della società S.P.A. Convergenze, Rosario Pingaro, partner organizzativo dell'evento insieme al Lions Club Pestum e al Comune, il presidente del Lions Club Pestum Enrico Bellelli e il governatore del distretto Lions 108 Y.A. Paolo Gattola. Le liriche premiate saranno declamate dal regista teatrale Pasquale De Cristofaro.